Alvaro Colombo, consulente informatico, esperto di editoria, attivista del movimento umanista e del partito umanista, esperto di nuovi modelli economici del polo umanista europeo e tra i promotori anche di bottega pastigiana. Nella situazione di bottega pastigiana voglio veramente ringraziare il MPL per averci permesso di essere il co-promotore di questo convegno. Voglio anche sottolineare una cosa che sto percependo, che oltre alla grande quantità di informazioni, di punti di vista, di proposte che sono state fatte, si percepisce in questi giorni anche un'atmosfera fraterna, secondo me veramente, di confronto, a volte anche abbastanza aspro nei contenuti, ma con un tono emotivo, fraterno. E penso che questo sia un elemento che se si vuole lanciare un progetto comune di trasformazione in questo Paese, aggregando altre forze, sia un ingrediente fondamentale. Riprendendo il discorso, prima Diego Fusaro diceva che occorre riportare la politica con la B maiuscola ad avere un predominio sull'economicismo, anche solo in questo modo sarà possibile l'implementazione delle possibili soluzioni politiche, perché se io non ho il predominio della politica sull'economia non posso imporre delle soluzioni tecniche e politiche come quelle esposte ieri, per esempio, che sono verosimili, anzi sono, secondo me, la vera soluzione, ma giustamente l'economista dice bene, io ti ho detto cosa c'è da fare, però come faccio a farlo se non c'è un movimento politico che mi appoggia, per poter fare questo bisogna proprio rendersi conto che ci troviamo in mezzo a una trappola economicista, viviamo proprio in preda, siamo preda del cretinismo economico, come lo chiama Fusaro secondo me, è proprio calzante questa definizione, economicista nel senso che tutte le scelte politiche sono fatte nel nome di un modello economico, quindi le scelte politiche fatte nel nome di un modello economico, quello ultraliberista, di cui l'Unione Europea è il vessillo mondiale ormai, perché addirittura da altre parti c'è qualche tentativo, però l'Unione Europea è proprio il fulcro della religione neoliberista nel mondo in questo momento, e nel nome di questo modello si stanno calpestando tutte le compiste sociali del secolo scorso e le costituzioni, abbiamo un processo trentennale in cui è successo questo, senza che di fatto quasi nessuno, a parte pochi che molti di cui probabilmente sono qui, si rendesse conto, perché oggettivamente le persone comuni non se ne sono rete conto, se stanno sperimentando adesso in una nuovità questa situazione che loro chiamano crisi, ma che in realtà è il frutto di un processo molto preciso. Questa crisi, questa cosa chiamata crisi, è basata più su falsi incominciamenti imposti attraverso un potente bombardamento mediatico che sul caldo naturali o per lo meno oggettive. Non c'è stata la peste, non c'è stata nessuna terrestia, le fabbriche potenzialmente potrebbero produrre, il problema è la clarenza di un mezzo di scambio convenzionale che dovrebbe far generare l'economia per il denaro. Questa cosa sta producendo fame, impossibilità di curarsi, suicidi, umiliazioni di interi paesi, perché per esempio ho parlato della Grecia e anche dell'Italia, per l'umiliazione di una storia culturale, di una storia di un popolo, di popoli che con la loro tradizione, con la loro storia che si trovano a essere chiamati pix. E' una cosa... quindi io non penso che rivendicare la dignità di una nazione sia un discorso nazionalista, sinceramente. Questa si tratta, a mio parere, di una vera e propria guerra che è combattuta attraverso delle psicobombe con cui bombardano le popolazioni, convincendole che la distruzione dei loro diritti viene fatta per il loro bene, per proteggerli da loro stessi, dalla loro pigrizia, dalla corruzione che insica in loro. Tutto questo è operato proprio, invece, negli interessi di quelli sì che non lavorano, perché possono ridere di rendita, perché sono quelli che sono dietro proprio al loro deliberismo speculativo, del capitale che ormai si è liberato dal bisogno del lavoro perché ha trovato delle forme sociali che giustificano il fatto che si autorepichi senza bisogno neanche di produrre nulla. Il che è proprio un assurdo storico, viviamo in una situazione in cui proprio sono creati dei meccanismi di controllo da parte del capitale che vengono giustificati attraverso un controllo mediatico, parlandone come di naturali, di inevitabili, di there is no alternative e a furia di ripetere queste stupidaggini la gente ci crede, perché di fatto noi ci troviamo col problema di una popolazione che mi crede. Quindi nel momento in cui noi ci poniamo infatti il problema di come lanciare un progetto di sinistra, dobbiamo tenere conto del fatto che purtroppo la gente è convinta delle sonore cagate che gli vengono raccontate tutti i giorni nelle smide. Ci credono. Perché è un bombardamento tale per cui è come la voce cinese proprio, dopo un po' ha una distrutturazione della coscienza che porta a credere comunque forte. i paradigmi sono quelli dello stato minimo, della contrattazione individuale, della libertà intesa come la libertà, del grande capitale di fare quello che gli pare. E viene visto come una realtà inevitabile. Di fronte, per dare una risposta a questa realtà apparentemente inevitabile, come nella tavola rotonda di ieri, per esempio, sono emerse diverse visioni di nuovi modelli di società, di stampo socialista, io direi anche di stampo umanista, che però è compatibile da quel punto di vista. Perché poi c'è anche il problema delle parole, anche come diceva prima. Il tema è capire cosa intendiamo. Però il tema che si tratta, queste sono aspirazioni che sono necessarie, di fronte a un'emergenza come quella dell'euro, per esempio, che queste fisiche ci stanno facendo vivere, è sì necessario fare azioni di urgenza, però se non si ha un punto di vista che va più lontano, almeno un po' più lontano, forse diventano molto più lontano, un passo in una direzione vale l'altra. E quindi ecco che l'uscita dall'euro rischia di diventare gattopartesca o addirittura ordo liberista. Quindi è molto importante capire insieme verso dove vogliamo andare. E' proprio questo il senso del costruire un'uscita dell'euro a sinistra. Perché oggi ci troviamo nel metodo di una crisi che ha bisogno di risposte inedite per poter riuscire. Quindi Bottega Partigiana proprio nasce a partire da questa esigenza, nasce come uno strumento di aggregazione, che noi siamo esponenti proprio di tanti mondi diversi della cosiddetta galassia di sinistra, ci sono marxisti, militanti della corrente MMT, sovranisti, post-kenesiani e anche umanisti. Abbiamo compiuto due atti, abbiamo iniziato lavoro veramente poco tempo fa, ma già siamo in un gruppo piuttosto affietato, abbiamo costruito un documento con le principi di azione insieme, sulla rete. Abbiamo messo un documento su Google Drive e l'abbiamo scritto insieme. E siamo arrivati a un documento che ci piaceva. E poi un manifesto, e anche quello ci abbiamo messo un po' ma se non ci chiestero insieme finché non piaceva a tutti. Cercando di mettere l'essenziale, quello che potesse aiutare a capire dove vogliamo andare. Il titolo, vi dico solo il titolo, perché poi il manifesto si può trovare sul sito. La dignità umana non è in vendita, i beni pubblici e i diritti non sono in vendita. Il frame è quello di ripristinare la sua età costituzionale. Sono punti in cui penso che chiunque di noi è d'accordo. Però l'obiettivo non è quello di sottomettere gli altri a un manifesto, è quello di proporlo un strumento di realizzazione in modo tale che uno possa mantenere la sua identità. E quindi per esempio l'aspetto di MPL a promuovere questo convegno che ha lo senso spirito è stato accolto con veramente entusiasmo. E ci è stato permesso anche di collaborare al documento politico proprio per aiutare a renderlo più comprensibile e anche più essenziale possibile. Perché avrete letto il genere e avete osservato che è venuto al minimo, proprio perché l'obiettivo è quello di costruirlo insieme con le forze che ci staranno. L'obiettivo è anche quello di trovare delle forme di comunicazione che permettano a, oltre alle forze già attive, già strutturate, anche altri tipi militanti, intellettuali, artisti e semplici da dire che si riescono a riconoscersi in alcuni punti comuni, ma non un'etichetta che magari non comprendono, che non fa parte della sua storia. Per esempio, non è un caso il termine bottega, perché io sono d'accordo, io sono una partita IVA, ma non mi sento un capitalista, mi sento un proletario, nei termini della leccisione, e arrivo da lì. Oggettivamente, quando, un po' di anni fa, si è detto che bisogna rilanciare l'otto operaia, è vero che si intende anche le partite IVA, eccetera, ma le partite IVA non lo capiscono questo. Se si parla solo di l'otto operaia, la classe operaia, partigiana, è un'immagine scudente, bisogna trovare delle forme che includono, e che non possiamo andare sotto gli stessi piccoli. Questo è importante, è un linguaggio, ma visto che sia che la battaglia è combattuta nelle coscienze delle persone, con le psicobombe, il linguaggio è importante. Partigiana, perché noi vogliamo fare una vera resistenza, pensiamo che oggi siamo in una guerra di occupazione, e che occorre una resistenza, che va fatta proprio nella testa, a partire da ognuno, perché uno accende la fermisione, dopo dieci minuti deve fare il partigiano per liberare se stesso. e anche poi, intorno, una madre di sinistra, a volte devo proprio dare degli shock dicendo, mamma, guarda che tu sei di sinistra, cosa stai dicendo? Dieci minuti di ballarò e uno… l'ipnosi collettiva, bisogna proprio aiutarci a svegliarci dalle illusioni, perché intere generazioni sono state crescite con me, i giorni appartengono a una generazione che è stata ingannata fin dalla nascita, e che si è svegliata a 30 anni scoprendo che era tutto falso. E non è facile da accettare, eh? Quindi, di dire concrete ne abbiamo viste tantissime, veramente c'è una richiesta pazzesca, e io proprio ringrazio anche gli economisti che hanno avuto il coraggio militante di sbilanciarsi ieri, perché penso che sia veramente interessante. E rilancio infatti il fatto dell'appoggiare l'idea di lavorare su questa posse del documento politico trasformandola in un vero progetto politico, posso già preannunciare che oltre a Bottega Partigiana anche il Partito Umanista è interessato a questo processo. Per ripetere il fatto anche che Bottega Partigiana si propone come strumento di lavoro, per esempio, io vorrei lanciare l'immagine, oltre al documento politico, di lavorare con le forze che ci stanno a un documento di sintesi degli atti di questo convegno, perché le trascrizioni sarebbero lunghissime, quindi studiare il convegno e fare un documento che faccio una sorta di mappa cognitiva di tutto quello che è stato detto, per aiutare chi non ha partecipato a comprendere e anche chi è partecipato a avere una sintesi. È un lavoro che è abbastanza impegnativo, quindi un subappello a chi vuole contattarci per collaborare insieme. finisco con una citazione filmica. A volte mi sembra stare in Mars Attack, un film in cui ci sono gli alieni che arrivano in cielo, siamo amici, non vi preoccupate, veniamo in pace, e cominciamo a disintegrare gli esseri umani, e gli esseri umani cercano di combatterli con armi, con l'esercito, gli alieni non ci riescono. A un certo punto un'anziana signora, ascoltando la sua radio a valvole, ascolta una musica nostalgica, un po' anni cinquanta, e l'alieno che la stava per ucciderla esplode. Ed ecco che l'umanità si salva diffondendo nel mondo, attraverso la radiodiffusione, questa musica nostalgica che fa sparire gli alieni. Una musica suave, gentile, che però trasforma questo incubo in nulla. E finisco con questa suggestione. E' l'inverso della piatta del pifo per aiomani. Bene, prima di presentare il prossimo intervento, Giorgio Marino Badiale. Sì, dovremmo cercare. Tante cose da dire. Io vorrei iniziare, proprio questo mio secondo intervento, con una cosa un po' testimoniale. Io ho 42 anni e sono 24 anni che faccio politica. Insomma, faccio parte di una vecchia generazione che va facendo parte di questa nuova generazione che è stata fregata. Già nell'89-90, la forza politica che io faccio parte vedeva molte delle cose che stanno succedendo. Quindi è un po' frustrante per me. E' stato molto frustrante questo ventennio. Poi non è perché succedono delle cose. Cioè, guardate che la grande finanza speculativa sta facendo questo, questo non succederà una cosa, crisi di sistema, attacco ai diritti. E tutta la sinistra che stava intorno ci ignorava completamente trattandoci appunto come una specie di elemento estraneo. Voi, chi siete? Siete una setta. Poi alla fine è successo tutto quello che è successo e ci troviamo adesso nelle marcellie potendo dire che avevamo ragione. Però senza, come dire, non è una grande soddisfazione. Per fortuna riconosciamo altri che probabilmente in questo percorso dicevano cose molto simili che avevano inascoltati in questi ultimi vent'anni. E questo potrebbe sembrare un discorso pessimista ma per me non lo è. perché così come in questi venti anni sono riusciti a cambiare completamente a distruggere un paradigma e a, come dire, a cambiare la vita delle persone usando fondamentalmente tecniche di manipolazione mentale perché di fatto la tecnica della rama bollita è questo cioè non è che non hanno stati fucili non sono riusciti a utilizzare e poi arriverò a studiare cosa intende esattamente con questo. Allo stesso modo cambiando un quadro di pensiero un quadro di schema di tensioni addirittura non è solo il pensiero perché il pensiero arriva fino a un certo punto poi c'è la tensione quella che viene chiamata a volte la pancia quello che mi fa paura quello che io penso quando per esempio faccio l'esempio dell'infrazione la usano ogni volta che uno prova a dire alcune cose la minaccia della cardiola per comprare il gelato questo oppure proprio si tendono al punto che ti attaccano con una ferocia che nel ton show è il giustificato ma poi quando uno è parlato vicino di casa riproduce la stessa ferocia gli viene proprio una cosa di tensione quindi è uno schermo di tensione è uno schermo di tensione, è uno schermo di pensiero allora io penso che se si riuscisse veramente a identificare i nodi di tutto questo e se si riuscisse a diffonderli a spiegarli, a snodarli snidarli e snusarli le cose potrebbero cambiare abbastanza in fretta nel senso che si potrebbero produrre una sorta di valanga sociale forse con forme diverse da quelle che ci immaginiamo classicamente più di più inizialmente all'inizio immagino la gente che scende in piazza che sicuramente è un aspetto però una valanga sociale può venire anche in altri modi anche proprio con una forma di cambio di punto di vista per cui alla fine la collettività smette di credere in certe cose e gli toglie il potere perché poi alla fine il potere della sovranità è dato dal fatto che uno crede in qualcosa è uno schema di credenza, uno schema di tensione se la maggioranza smettesse di chiedere in certe cose molto rapidamente si potrebbe dare si potrebbe avere un cambio sociale sicuramente con degli scontri conflittivi cioè non è che mi immagino una cosa proprio ma si prego avete cambiato ci saranno delle resistenze che però se la maggioranza comincerà a pensare in un altro modo saranno come delle resistenze potranno essere sconfitte dico tutto questo perché ritengo che sia veramente molto importante oggi concentrarsi su alcuni contenuti sia di tipo appunto ideologico sia anche esistenziale che possano aiutare a partire dal vissuto prima facevo l'esempio del vissuto della mia generazione che vive un senso di ingiustizia di tradimento di assurdo si è trovata a essere stata importata col bipolarismo e si è trovata in una società bipolare nel senso psicoanalitico del termine psicoanalitico del termine allora è un libro bipolare e quindi poi se la risposta è di fronte agli attacchi bisogna cioè il Presidente Rebbe bisogna difendere il bipolarismo cioè perché ci sono delle cose che sono incomprensibili sono qualcosa ma perché io non te lo dico cioè perché non c'è un motivo allora quindi un'altra delle cose che sono successe volevo rispondere a quello che dice Francesca che c'è bisogno di un leader io penso che ci sarà bisogno di portavusci però è stata un'altra via facile che ci è stata raccontata negli ultimi vent'anni questa che bisogna trovare il leader prima di iniziare un processo e che ha tagliato io ho visto tanti progetti partire intorno a dei leader che poi sono proprio sono fermati perché c'era il leader specie nella sinistra io penso che prima bisogna mettersi molto d'accordo costruire un gruppo e imparare a lavorare il gruppo che è diverso da e a quel punto da quel gruppo potranno uscire fuori le portavoce che sapendo lavorare il gruppo potranno fare un'opera di leaderismo sociale è meglio se più di uno perché oggi penso di quella sia un'altra cosa interessante se la gente vedesse che c'è un gruppo di persone che crede un'altra cosa che sa lavorare il gruppo non per interessi personali ma veramente perché è mossa da ideali e quella è una cosa che passa dallo schema di tensione perché uno se ne accorge se uno sta parlando per fare carriera o perché crede una cosa è una cosa che passa attraverso canali umani ecco che ci può essere speranza il leader porta il leader porta il leader porta in una cosa non è una cosa che io penso che ad un certo punto sia bisogno di riferimenti umani anche perché appunto un'idea poi deve incarnarsi però è molto importante parlare di come arrivare a quello più che sceglierlo costruirlo per esempio il leader allora si sta parlando dell'euro dell'uscita dell'euro oltre l'euro a sinistra le tesi delle alternative si sta parlando del tema della sovranità e io sono d'accordo sul fatto che l'Italia appunto ha avuto dal dopoguerra una sovranità limitata abbiamo la invasinato abbiamo siamo comunque troppo importanti a livello geopolitico per essere lasciati a noi stessi quindi siamo sempre stati orientati dai vari gruppi cioè voglio dire è evidente che nella politica italiana anche del periodo costituzionale io direi che adesso c'è un periodo post-postituzionale nel senso che questa storia della prostituzione materiale tutta la prima parte della prostituzione vista come una sorta di massia degli idealisti adesso dicendo questo anche quella parte comunque aveva questa costituzione come promessa cioè c'è stata nel secondo dopoguerra finalmente la promessa della devocrazia rappresentativa come trasferimento della sovranità ai popoli come possibile applicazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è stata una promessa che non è stata mantenuta quindi io non parlerei di ripristino della sovranità popolare non parlerei di attuazione per la prima volta della sovranità popolare perché non ce n'è stata finora è stata promessa questa è una grande occasione che abbiamo già fatto questa crisi sia quella dell'euro che quella sistemica più grande che dà un inquadramento maggiore alla guerra dell'euro perché è proprio un fenomeno particolare molto importante nell'ottica di una evoluzione barra crisi di un capitalismo che infatti come diceva ieri qualcuno rischia di trasformarsi in un nuovo medioevo feudale però detto questo i momenti di transizione sono grandi occasioni per inserire degli elementi nuovi in particolare noi abbiamo una grande responsabilità che i greci e gli spagnoli non hanno noi siamo in un paese che ha potenzialmente ancora la possibilità di ricattare cioè prendendo posizioni forti di far saltare tutto il capitalismo casino in questo momento perché abbiamo una massa critica che può mandare in crisi non solo l'europea ma tutto il sistema capitalista per come è costruito non solo l'europeo no no non solo l'europeo anche quello internazionale per esempio costruendo anche degli assi con i brici l'Italia che veramente fosse mossa da un governo anticapitalista è per il popolo per il popolo italiano che sicuro perché ha l'identità nazionale per me esiste anche in ottica sono per la nazione umana universale e sono anche per il decentramento quindi l'aspetto nazionale è uno degli aspetti dei livelli della costruzione della nazione umana universale ecco che l'Italia ha la massa critica ancora economica in un mondo economicista per potenziare il cambiamento a livello planetario è uno di quei paesi che ancora perché ci hanno dato la notizia del fatto che siamo stati superati dalla Russia nella scala dei grandi paesi dei PIL poi dalla Russia cioè adesso sono paesi di Santa Maria di Tantica comunque ancora i PIL nonostante tutto siamo ancora l'ottavo della nuova potenza economica del mondo di cui non possono mantenere conto questo è il motivo per cui si accaniscono particolarmente su di noi con i vicilari vicere post berlusconiani cercando di controllarci in ogni modo però questa è anche proprio la responsabilità che noi abbiamo in un progetto che punta il cambiamento per la nostra nazione che potrebbe avere delle conseguenze importantissime per i fratelli greci per gli spagnoli ma anche proprio per un processo internazionale grazie non vorrei non vorrei insomma replicare ma brevissimamente non voglio aggiornare un diritto che riprendo da sorta è giusto logisticamente però c'è una cosa due passaggi che si può Grazie a tutti.